L'episodio apre con una sequenza flash proposta nella sua interessa e mi pare vano il suggerimento di tenere d'occhio da questo momento in poi con l'intrigante di un bretto. Vado di là da Giorgio mi va contro il sole e poi vado di là da Giorgio. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Si vedeva il cane? Si vedeva perché si vedeva il cane.